È stato depositato l'emendamento così come era previsto, quindi credo che adesso degli equivoci non ce ne possano assolutamente essere. Il testo corrisponde esattamente a quanto era stato dichiarato precedentemente. Io l'avevo detto al Senato quando è stata votata la fiducia sulla legge delega. A questo punto credo che le discussioni sul punto siano risolte. Questo è un testo approvato dal governo, quindi ovviamente condiviso dalla maggioranza, per cui credo che siamo a posto. Quindi la fiducia non si voterà? Questo sarà un tema che si vedrà in ragione dei tempi essenzialmente.